Bene, allora di nuovo buonasera a tutti, bentrovati, benvenuti e quindi siamo pronti per cominciare il nostro incontro di oggi dedicato ancora alla logica proposizionale e formale e in modo particolare oggi all'implicazione. Ma prima di far questo avremo da richiamare qualcosa della lezione precedente dell'esercitazione svolta che avevate effettuato ma che dovevamo ancora correggere. Vi ricordo intanto che per quanto riguarda la formula dei webinar che prevedono non soltanto la logica ma anche la legislazione scolastica, la pedagogia e i webinar sono gratuiti. Per quanto riguarda la logica in modo particolare oggi dicevo ci dedicheremo ancora alla logica proposizionale che come abbiamo detto la volta scorsa rappresenta veramente l'insieme dei prerequisiti quando si tratta della logica e in questo modo avremo messo delle basi solide che poi ci permetteranno di arrivare anche alla comprensione dei brani perché come vedrete la gradualità dicevo anche la volta scorsa è veramente la parola chiave anche alla comprensione dei brani acquisiti relativi a testi argomentativi che sono quelli che vengono presentati poi per esempio nella prova del tfa si arriva partendo dalla dalla logica proposizionale e dalla sillogistica e quindi come poi chiariremo meglio strada facendo c'è una progressione per cui arriviamo alla comprensione del testo questa è un'altra buona ragione per cui è fondamentale partire dalla partire dalla dalla logica perché come vi proporrò e come cercherò anche di dimostrarvi il testo argomentativo è eh senz'altro assimilabile ad un ragionamento ci siamo e in quanto tale può essere per l'appunto ehm utile lo eh lo schema che la logica che la sillogistica in modo particolare ci fornisce per approcciare anche la comprensione del testo quindi ancora oggi la ci dedichiamo alla logica proposizionale le due eh successive lezioni di logica si terranno invece nel prossimo fine settimana il diciannove e il venti sabato e domenica rispettivamente e saranno dedicate quella del diciannove è ancora una lezione eh diciamo che ha un carattere preparatorio anche rispetto al testo ci occuperemo proprio della sillogistica mentre la lezione del venti eh sarà un focus dedicato espressamente al al tfa e quindi ci occuperemo della dei quesiti su brani e in modo particolare eh in modo particolare eh dei eh quesiti della tipologia di quesiti comunemente adottata proprio nelle prove di preselezione del tfa quindi questo è il programma pertanto ripeto e riepilogo da questo punto di vista sono quelle eh quella già svolta quella di oggi e la prossima di sabato diciannove tre lezioni che hanno un carattere eh propedeutico eh ovviamente non soltanto propedeutico perché tutte le tipologie di quesiti che stiamo affrontando per esempio sono state ehm somministrate sono state centrali nella prova preselettiva del concorso a cattedra del duemilatredici l'ultimo eh che si è eh quello del duemilatredici eh e poi la lezione invece di domenica venti sarà invece un focus sul tfa con particolare riferimento alla comprensione dei brani alla quale però arriviamo con un percorso dopo aver affrontato quindi una serie di propedeuticità questo diciamo quello che vi eh volevo volevo dire eh detto questo ecco questi cicli questo ciclo di questi webinar ehm dedicati al alla preparazione della prova preselettiva per il concorso eh per il concorso a cattedra e per il tfa organizzati da organizzati da wow wow opera nel nell'ambito della formazione almeno dal duemila eh dal duemiladodici e io collaboro con wow quasi dall'inizio dal duemilatredici duemilatredici direi e eh nel corso del tempo insomma eh il lavoro di wow ha potuto eh si è potuto anche arricchire di eh una serie di collaborazioni e eh partnership significative come quella per esempio con Simone Edizioni e con eh con Anicia eh che si occupa in particolare eh del comparto scolastico con molte pubblicazioni relative proprio alla legislazione scolastica all'ambito psicopedagogico eccetera ehm detto questo eh insomma eh Alessandro si è soffermato la volta scorsa in particolare ma io con piacere eh richiamo eh il eh il punto insomma nodale veramente del dell'impostazione anche metodologica di wow che insiste da sempre sulla eh sulla collaborazione perché naturalmente noi sappiamo benissimo che le prove di preselezione sono delle gare e che quindi inevitabilmente mettono in competizione però insomma eh wow promuove invece un approccio collaborativo e cooperativo tra i suoi corsisti perché naturalmente nei grandi numeri è chiaro che c'è posto diciamo di un approccio per tutti per tutti quelli che si preparano con wow certamente di conseguenza eh voglio dire non c'è motivo di essere in questo microcosmo in competizione anzi tutt'altro eh eh la la logica eh è che promuoviamo è quella invece di una positiva collaborazione che ci porti a crescere a crescere tutti quanti insieme e a questo proposito insomma anche da parte mia io sono del parere che eh quanti di voi si sono accostati a questi a questi webinar con magari degli interrogativi delle domande come giusto come logico e come è comprensibile e umano che sia chiedendosi se eh sarebbero serviti con il passare dei minuti io credo si siano convinti che eh in realtà siamo qui a darci reciprocamente una possibilità seria una possibilità seria come sempre quando si fanno le cose sul serio e allora per questa ragione io insomma eh sono convinto che anche oggi in queste due ore di logica che passeremo ancora insieme e nelle quali continuerò con come avete visto anche l'altra volta eh in modo anche incalzante nel cercare di fornirvi i fondamentali della logica so che potrò contare quindi sulla vostra collaborazione e sulla vostra pazienza nel digerire quelli che sono gli strumenti fondamentali della logica perché eh insomma ho detto la volta scorsa vi dicevo che eh è assolutamente essenziale lavorare sui fondamentali senza la padronanza del quadro teorico non si può fare nella logica alcun eh vero progresso quindi la logica proposizionale è veramente eh diciamo concludo prima di lasciarvi alla vostra prima esercitazione della giornata perché sapete che eh diciamo lo schema della lezione prevede una lezione in una simulazione eh in una simulazione un'esercitazione scusatemi in apertura ed un'altra in chiusura eh ecco dicevo prima di lasciarvi alla vostra prima eh esercitazione ecco eh vi ricordo che il il lavoro che eh sul la logica dobbia sul quale dobbiamo insistere eh è proprio quello che consiste nell'acquisizione dei fondamentali dei preliminari logici eh per quindi una duplice ragione da una parte diretta cioè eh la conoscenza della logica che ci deve mettere nelle condizioni di rispondere ai quesiti afferenti a queste classi quelle della logica proposizionale prima e poi quelli della sillogistica come vedremo ma poi anche per un preciso rapporto di propedeuticità perché la logica proposizionale è propedeutica alla logica in generale cioè la logica posizionale andrebbe studiata per prima e studiata con molta attenzione perché eh costituisce l'insieme dei prerequisiti ed è propedeutica anche se può sembrare strano eh eh propedeutica anche alla comprensione del test argomentativo eh forse questo potrebbe lasciar perplesso qualcuno ma io premetto che non sono un purista della logica eh il testo non si lascia assolutamente ridurre alla sola dimensione logica ma allo stesso tempo la i prerequisiti della logica se opportunamente integrati da quell'altra grande famiglia di competenze che sono quelle testuali e che eh troviamo piuttosto nella linguistica diciamo se opportunamente integrate esiste però un largo livello della comprensione del testo in modo particolare del testo argomentativo che eh eh si lascia ricondurre alla logica eh bene detto questo vi avevo anticipato e avrei fatto mh fare l'esercitazione in realtà vi faccio aspettare eh per fare l'esercitazione di oggi eh ancora un momento perché eh a ben pensarci noi abbiamo ancora da riprendere l'esercitazione con la quale abbiamo concluso la nostra precedente il nostro precedente incontro e di conseguenza adesso vado a richiamarla un momento vediamo quindi eh eccola qua sono i quesiti sono i quesiti senza altri particolari commenti perché adesso li approcciamo insieme soprattutto per eh andare a consolidare gli argomenti affrontati quindi prima di proseguire con altro dicevo l'argomento di oggi il piatto forte della giornata è costituito dall'implicazione dalla condizione sufficiente e condizione necessaria d'accordo eh prima però eh accertiamoci che eh sia sufficientemente chiaro e consolidato quello che abbiamo affrontato nel nostro primo incontro allora questi erano i vostri quesiti ve lo ve lo ricordate quindi era uno dei quesiti l'ordine ovviamente è randomizzato quindi non è detto che sia lo stesso per tutti ma in ogni caso questo era appunto scusatemi uno dei quesiti della vostra della vostra prova allora e cerchiamo adesso di rispondere a questi quesiti in modo da fare un rapido ripasso degli argomenti affrontati quindi ci siamo occupati la volta scorsa di cosa abbiamo approcciato la logica proposizionale in particolare le proposizioni elementari quindi le proposizioni singolari e quelle con quantificatore e tra le proposizioni composte ci siamo occupati della congiunzione e della disgiunzione ma non dell'implicazione che è argomento di oggi allora torniamo attraverso i eh quesiti a fare un ripasso eccoci qua vedete negare che ogni gallo canta quindi ci chiede di indicare il verde non si vede bene usiamo il rosso ci chiede di negare cioè di smentire cioè di indicare le condizioni di falsificazione va bene della proposizione ogni gallo canta ora la proposizione ogni gallo canta è una universale affermativa e quindi dobbiamo richiamare a ricordarci come si falsificano le universali affermative regola le universali sono sempre falsificate cioè negate cioè smentite dalla particolare opposta quindi attenzione perché la risposta corretta non è la di perché la di è l'universale negativa e l'universale negativa non falsifica cioè non nega cioè non smentisce l'universale affermativa bensì dalla b perché la b è la particolare negativa quindi l'universale affermativa è sempre smentita falsificata negata contraddetta come volete sono tutti sinonimi nella logica dalla particolare negativa dalla particolare negativa se è falso che tutti i galli cantano allora vuol dire che c'è almeno un gallo che non canta va bene allora ricordate l'universale affermativa è smentita dalla particolare negativa laddove invece l'universale negativa è smentita cioè negata dalla particolare affermativa quindi sulla diagonale è l'asse delle contraddittorie mentre le due universali non sono tra loro contraddittorie bensì contrarie ricordate questa differenza contraria vuol dire che non sono tra loro in una relazione di mutua esclusione tra tale che l'una neghi l'altra cioè non sono incompatibili ma ammettono sempre una terza possibilità le contraddittorie non ammettono mai una terza possibilità ci siamo allora falsificazione delle universali vediamo quale delle seguenti è la negazione dell'enunciato tutti gli studenti sono stati promossi di nuovo negazione quindi quale è falso se è falso che tutti sono stati promossi vuol dire che almeno uno non è stato promosso eccola qui ci siamo di nuovo negazione delle dell'universale affermativa andiamo a cercare la particolare negativa benissimo in questo caso ci viene invece richiesto di negare cioè di indicare tra le opzioni di risposta quella che fornisce le condizioni di falsificazione della proposizione data che rispetto al quantificatore è una universale e rispetto al connettivo è una congiunzione allora qui l'invito caloroso che io vi rivolgo che è poi il salto di qualità che noi dobbiamo fare nella logica è quello di andare quando abbiamo un quesito di logica a spogliarlo dei suoi aspetti linguistici che non hanno una rilevanza logica guardate che in questo quesito gli elementi logicamente rilevanti sono tre e soltanto tre non ce ne sono altri il quantificatore il connettivo il valore di verità ok che cos'altro nessuno se invece che corvi fossero cornacchie cigni che ne so cosa cambierebbe nulla se le due proprietà fossero diverse da quelle specificate cose cambierebbe nulla se cambia il quantificatore il connettivo o il valore di verità invece cambia tutto quindi questa attitudine fondamentale ci indica una direzione di lavoro quando si tratta di logica quella di collocarci sempre al livello proprio della logica logico formale non ha importanza l'espressione linguistica non ha importanza il contenuto la logica è sempre logica formale ora detto questo per falsificare la proposizione data siccome c'è sia un quantificatore che un connettivo noi dovremo indicare le condizioni di falsificazione sia rispetto al quantificatore che rispetto al connettivo rispetto al quantificatore abbiamo detto che per falsificare l'universale ci serve la particolare opposta bene ma questo non basta per rispondere perché sono tutte particolari sarebbe stato troppo facile dobbiamo dire anche rispetto al connettivo ora la regola io ve la enuncio prima anzi ve la ricordo perché ve l'ho già detta la volta scorsa brutalmente poi vi spiego anche perché è così allora per falsificare la e ci andremo sempre a cercare la o va bene infatti diversi di voi hanno risposto ci è tra c e di perché ovviamente il distrattore più forte è la c ovviamente sapete bene quanto me cosa sono i distrattori distrattori sono le risposte sbagliate poi ci sono distrattori più forti e distrattori più deboli la c è il distrattore più forte va bene perché lì il dubbio è tra la c e la d ora io vi ho detto la regola dovete falsificare la e vi andate a cercare la risposta con la o quindi risposta di perché è così allora spieghiamo per capire perché è così occorre usare in modo avveduto le tavole di verità in questo caso la tavola di verità della congiunzione che vi ho introdotto la volta scorsa e che vi richiamo qui siano date due proposizioni p e q va bene qual è il risultato dell'operazione di congiunzione di p e q quindi p e lo scrivo così poi dopo vi introdurrò anche i simboli va bene p e q allora vi ricordate la tavola di verità per vero la congiunzione mi davvero ed è falsa in tutti gli altri casi perché è una end quindi mi dice devono essere vere tutte e due p e q perché sia vera la proposizione composta p e q ma è sufficiente che sia falsa una e sono e la congiunzione mi restituisce falso siete d'accordo vi ricordate qui non entro molto bene ma fa niente falso falso tanto mi capite mi restituisce falso allora la congiunzione vi ricordo l'abbiamo detto la volta scorsa tavola di verità della congiunzione mi restituisce vero solo quando sono vere entrambe le proposizioni elementari che la formano e mi restituisce falso in tutti gli altri casi siete d'accordo ci siamo allora quando mi chiedono eh come si falsifica come si nega una proposizione noi come si usano quindi le tavole di verità andiamo a prenderci le righe dove mi restituisce falso che sono come vedete nel caso della nel caso della congiunzione eh le la seconda la terza e la quarta riga va bene allora il motivo per cui mi devo andare a cercare la o è che è questa o da intendersi nella sua accezione inclusiva d'accordo a indicare specificare contenere tutti i casi in cui la congiunzione risulta per l'appunto essere falsa cioè il caso in cui sia falsa una seconda riga in cui sia falsa l'altra terza riga o in cui siano false entrambe cioè appunto l'ultima riga perché quella o va intesa in senso inclusivo quindi vuol dire almeno una delle due e cioè l'una l'altra o entrambe se noi scegliamo la risposta c stiamo commettendo un errore tipico d'altra parte nella logica tutti gli errori sono errori tipici ok perché perché la risposta c e cioè la e e cioè la doppia negazione in realtà perché non è loquace e non dice il vero significa in realtà collocarci solo qui sull'ultima riga vedete il caso in cui siano false entrambe che lascia però scoperto scoperti gli altri due casi cioè perché sia falsa la risultante ovvero la congiunzione non è su non è non non serve che siano false tutte e due è sufficiente che sia falsa anche solo ed inoltre una delle due la legge di de morgan è perfettamente valida e operante martina benissimo la legge di de morgan per la falsificazione della congiunzione eh costituisce infatti una versione formalizzata delle della delle tavole di verità ci dice lo stesso che ci dicono le tavole di verità solo che la tavola di verità la devo leggere la legge di de morgan mi fornisce un protocollo formale perché la legge di de morgan che cosa dice già che ci siamo che cancello così ci capiamo meglio ok non p e q scrivo qui nella parentesi non p e q equivale a non p o non q potete usare la tavola di verità potete usare la legge di morgan è la stessa cosa vedete come si legge allora non p e q equivale a non p o non q l'unica cosa veramente concreta elisabetta è usare la logica non c'è un'altra cosa concreta eh sì certo devi andarti a cercare l'ho appunto come stavo dicendo però vi sto spiegando perché è così allora non p e q equivale a non p o non q perché che cosa significa come si legge vuol dire che per negare la congiunzione cioè per falsificare una congiunzione è sufficiente che sia falsa l'una o l'altra delle due proposizioni elementari che la formano questo è il significato della scrittura formale che state leggendo tra l'altro vi esorto a non andare alla ricerca di scorciatoie perché la logica va capita bene altrimenti quello che facciamo rischia di essere limitarci ad una comprensione del caso di specie del caso particolare che stiamo affrontando ma quel lavoro che noi dobbiamo fare consiste invece nell'incamerare una serie di strumenti e procedure che poi ci servono per risolvere eh una vasta classe di quesiti quindi io insisto molto sui fondamentali che noi dobbiamo mettere nella nostra cassetta degli attrezzi poi sarà a quel punto la buona conoscenza della logica insieme all'esercizio alla pratica ad aver affinato la nostra sensibilità e a farci capire quali siano gli strumenti adatti da utilizzare ogni volta allora in questo caso se è tutto chiaro passo al quesito successivo tavole di tavola di verità della congiunzione legge di de morgan per la falsificazione della congiunzione questi sono gli strumenti fondamentali che eh adoperiamo allora fatemi sapere se è chiaro perché la risposta corretta è la d e non la c che è il distrattore più forte benissimo allora quale delle seguenti è la negazione qui c'era ancora un quesito relativo alla falsificazione dell'universale se è falso che tutti i mammiferi sono provvisti i denti vuol dire che esistono mammiferi sprovvisti di denti 5c e ormai qui abbiamo detto più volte quindi ritengo di poter dare per assodato bene allora io qui l'ho fatto apposta a mettervi eh alcuni schemi logici ripetitivi perché qui una volta che abbiamo capito eh non ne sbagliamo più nessuno di questo tipo l'errore qui è sistemico o li sbagliamo tutti o li facciamo tutti bene perché questo quesito è formalmente identico al precedente anche qui di nuovo ci viene richiesto di indicare le condizioni di falsificazione della proposizione universale rispetto al quantificatore e eh e che rispetto al connettivo è invece sia sia una congiunzione quindi ora sapete ora vedete che dobbiamo rispondere a ci siamo ce l'abbiamo ok benissimo fatemi vedere che cos'altro c'era in questa vostra eh esercitazione sulla quale però eh ritengo sia utile ritornare perché ieri sera non abbiamo no ieri sera scusi l'ultima volta non abbiamo avuto modo di correggerla insieme ma io visionando le vostre risposte visionando le vostre risposte ho visto che c'era ancora un discreto margine di errore sulla falsificazione della congiunzione quindi per questa ragione ho ritenuto molto utile eh soffermarmi e spero insomma non ci siano problemi allora qui invece eh in modo speculare alla all'esercitazione diciamo di inizio della vostra lezione avevate eh dei quesiti come questo che vi richiedevano di indicare tra le tra i grafici proposti quello che esprime correttamente le relazioni logiche che eh sussistono tra le categorie cioè tra le classi logiche è la stessa cosa che qui sono appunto proposte e insomma su questi quesiti che hanno un senso didattico ma nella prova preselettiva del concorso a Catt della duemila e tredici c'erano proprio questa classe di questa tipologia di quesiti hanno comunque anche una utilità didattica perché servono a ricordarci che esiste una stretta relazione tra la logica proposizionale e l'insiemistica in particolare c'è una relazione eh uno ad uno una relazione perfetta tra le diverse tipologie di proposizioni con quantificatore e le eh la corrispondente relazione tra insiemi allora questi quesiti se anche qui li analizziamo in modo completo no io poi se volete sui quesiti ho sempre una via breve per cui vi spiego com'è in eh dieci secondi e una via più lunga perché in questa sede scelgo la via più lunga proprio perché naturalmente dobbiamo eh proprio qui analizzare per avere un quadro quanto più possibile eh preciso della logica eh la la brevità sarà il risultato quel tempo che voi impiegherete quando questi strumenti saranno completamente assimilati allora qui cosa succede che una terna di concetti di categorie si traduce va bene in tre relazioni in tre proposizioni eh sì arriviamo in tre proposizioni va bene perché esiste una relazione tra scuole ed edifici una relazione tra edifici alberghi e una relazione tra scuole alberghi a questa diciamo è il significato di questi quesiti quindi scuole ed edifici che relazione c'è eh le scuole sono edifici quindi si tratta tutte le scuole sono edifici universale affermativa inclusione la classe logica delle scuole è una sottoclasse di quella degli edifici tra scuole e alberghi stessa relazione cioè gli alberghi sono una sottoclasse va bene degli edifici eccoci qua e eh restando scuole e alberghi ovviamente in linea di principio cioè da un punto di vista logico classi separate qual è quindi la la rappresentazione unitaria che unifica queste rappresentazioni che associano queste tre classi logiche una ad una naturalmente se noi disegniamo tutto insieme avremo che una la classe logica più grande è quella degli edifici e al suo interno ci sono sia le scuole che gli alberghi restando separate tra di loro quindi vedete che queste tre relazioni insiemistiche sono sintetizzate in questa qui ho diciamo ehm speso un momento per analizzare perché poi come vedremo nella sillogistica questi strumenti quelli legati alla rappresentazione insiemistica tornano di fondamentale utilità ed importanza per decidere della validità dei sillogismi e dei ragionamenti quindi vedremo quando parleremo della sillogistica che la rappresentazione insiemistica è un fondamentale strumento per l'analisi della correttezza dei ragionamenti e iniziamo qui quindi parlando della logica proposizionale a coltivare questi strumenti ora che è chiara la procedura vado più spedito e passo direttamente non eh sviscero più diciamo la rappresentazione di ciascuna di queste coppie di concetti presi a di questi tre concetti presi a due alla volta passo direttamente alla rappresentazione globale come vedete tutti gli artisti sono eh tutti i pittori sono artisti quindi qui è una sottoclasse mentre la tavolozza sta fuori quindi è così non ci facciamo ingannare dal fatto che i pittori usano la tavolozza perché eh conta soltanto la relazione insiemistica che si esprime nei termini di dell'appartenenza o non appartenenza di un elemento ad una classe logica data che da un punto di vista linguistico si lascia tradurre nel verbo essere quindi facciamoci questa domanda no eh i pittori sono artisti quindi sta dentro le tavolozze non sono pittori le tavolozze servono per quindi una relazione di tipo strumentale non logico no e quindi non appartiene alla classe logica questo lo ricordo lo sottolineo perché eh dicevo già l'altra volta tutto sommato è uno dei pochi modi in cui si possono sbagliare questi quesiti laddove sono proposti direttamente in questa forma poi dicevo hanno anche una funzione didattica ma potrebbero essere anche poi può essere una tipologia di quesito allora stessa cosa anche qui vedete eh in realtà qui sono tre classi logiche separate perché le montagne le baite non importa che le baite si trovano in montagna no le baite non sono montagne non stanno dentro chiediamoci sempre cosa c'è dentro a questa a questa classe logica dentro alla classe logica delle montagne che cosa ci sta dentro alla classe logica delle baite che cosa c'è dentro alla classe logica di escursionisti che cosa c'è hanno elementi in comune no quindi sono tre classi logiche separate distinte prive di elementi in comune vediamo cani setter e doberman è chiaro che qui sono due sottoclassi perché tutti i setter sono cani tutti i doberman sono cani restando setter e doberman ovviamente separati tra di loro anche qui si potrebbero fare considerazioni fuorviante e gli incroci va bene ma gli incroci sono una una eh un aspetto di natura non logica in senso proprio in nessun senso va bene allora vediamo che cos'altro abbiamo e il quesito cattolici cristiani e luterani ma semplice in realtà perché cattolici eh no non c'erano i cattolici eh il quesito era perché era di una precedente dell'altra allora era credenti credenti sì certo è chiaro altrimenti sarebbe stata diversa la rappresentazione allora credenti eccoli qua cristiani cristiani e luterani benissimo allora qui ovviamente c'è entra anche la conoscenza storica luterani questa anelle scusatemi se a volte non scrivo proprio perfettamente è certo insomma per essere molto breve senza voler essere didascalico ma è chiaro che dal cinquecento l'unità del cristianesimo medievale si rifrange in una serie di confessioni tutte cristiane quindi avete avete cristianesimo cristianesimo e poi c'è ci sono i luterani ci sono i cattolici ci sono i protestanti ci sono gli i calvinisti ci sono gli ortodossi ci sono i copti ci sono quello che volete no eccetera eccetera quindi ovviamente eh luterani e cattolici stanno sullo stesso livello logico e eh quello del cristianesimo è un concetto sovraordinato scusate non volevo essere didascalico brevissimo solo richiamo per dire che naturalmente qui che cosa avete che tutti i luterani sono cristiani non meno dei cattolici degli ortodossi dei calvinisti eccetera eccetera e tutti i cristiani sono credenti quindi qui è una triplice inclusione questi queste tre classi logiche stanno ovviamente una dentro l'altra va bene questo era e poi ultimo quesito apparentemente semplice ma interessante perché propone una formulazione particolare quale delle seguenti affermazioni potrebbe sicuramente essere confutata da una singola osservazione allora guardate qui la chiave del quesito eh consiste nell'evidenza che soltanto una proposizione universale può essere smentita da una singola osservazione quindi si richiedeva di andare a cercare l'unica universale pertanto sebbene la formulazione fosse qui più ingegnosa però di nuovo la competenza era qui quella della falsificazione delle universali vedete eh l'unica universale qui è la t le tigri non attaccano individui adulti di elefante perché perché è sufficiente osservare un solo caso in contrario quindi un adulto di elefante che attacca una tigre per smentire l'asserzione generale secondo cui appunto eh le tigri non attaccano eh adulti di elefante vi faccio vedere perché una particolare non può mai essere smentita da una singola osservazione prendiamo una particolare a caso la D d'accordo che cosa vuol dire che una asserzione particolare non può essere mai smentita da una singola osservazione beh allora se ci pensate nel campo di possibilità lasciate aperte da questa affermazione i danesi biondi voi potete fare due tipi di osservazioni o osservate un danese biondo o osservate un danese non biondo giusto ora cosa succede facciamo entrambe le ipotesi se osservate un danese non biondo non avete certamente smentito la D che dice non tutti perché voi vi dice non tutti e voi avete osservato uno che in effetti non è biondo ma anche qualora osservaste un danese biondo non avreste lo stesso smentito la particolare negativa che dice non tutti perché quella vi dice non tutti e voi avete osservato uno biondo e quindi non c'è alcuna incompatibilità ecco perché le particolari non sono mai eh smentibili con una singola osservazione ma solo le universali qui andava capito questo essenzialmente ci siamo eh il distrattore più forte qui era la A esattamente sì proprio così Simona infatti mi hai proprio anticipato vedete questo normalmente come dire introduce la possibilità di una eccezione di una clausola restrittiva normalmente non è un quantificatore universale perfetto ehm in effetti nel nella logica sono stati eh introdotti eh eh poi dei quantificatori eh non netti no i quantificatori sono quelli che vi ho raccontato finora eh universale universale e l'esistenziale quantificatori non netti per cercare di avvicinare la logica al linguaggio ordinario quindi il quel normalmente non è un quantificatore netto è un quasi universale ma non è propriamente un universale mentre quando in un quesito di logica trovate l'articolo determinativo le tigri in un quesito di logica vuol dire sempre tutte le tigri le tigri vuol dire l'insieme universo eh quindi lì è come se ci fosse tutti è esattamente la stessa cosa e e quindi risposta di eccoci qua va bene questo per quanto riguarda gli argomenti di ieri perciò eh proposizioni elementari proposizioni singolari proposizioni con quantificatore negazione di una universale proposizioni composte in particolare congiunzione disgiunzione nega tavole di verità leggi di De Morgan negazione della congiunzione e negazione della disgiunzione ci siamo? No la E è falsa ma la E non c'entra niente perché sono quattro questa è una eh è sopravvissuta la E ha una non doveva esserci allora ci siamo? Quindi questi sono gli argomenti fatemi sapere prima di lanciare la eh l'esercitazione di oggi sull'implicazione se ci sono dubbi sulle cose che abbiamo detto tu toc va bene va bene poi avremo modo di tornare io vi raccomando che la progressione nella logica una volta capito che la logica va affrontata in nel modo che vi sto eh che mi sto sforzando di suggerirvi quindi bisogna che capiamo l'importanza di fare questo tipo di lavoro nella logica che ci porta a dei miglioramenti sicuri allora in questo caso l'ultima prima di lanciare la nostra esercitazione pulisco un momento qui la eh non proprio le la legge di De Morgan non si applica utilizzando le tavole di verità eh la le le leggi di De Morgan sono costituiscono le leggi di De Morgan per la falsificazione della congiunzione della disgiunzione sono strumenti è uno strumento formalizzato un attimo solo Miriam sono uno strumento formalizzato che eh è equivalente alle tavole di verità cioè noi come si usano le tavole di verità ve l'ho fatto vedere prima usiamo la tavola di verità per capire come si nega la congiunzione siccome la tavola di verità della congiunzione è vero falso 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 va bene mi restituisce vero se sono bene tutte e due se no sempre falso io per sapere come si nega vado a vedere i casi in cui è falso e quindi devo leggere la tavola di verità mentre la legge di De Morgan mi fornisce la stessa informazione della tavola di verità ma in una versione formalizzata in una scrittura formalizzata quindi sono due strumenti equivalenti che si integrano tra di loro questo per quanto riguarda quindi la domanda sulle leggi di De Morgan per quanto riguarda è sempre possibile riascoltare tutte quante le lezioni Miriam invece mi chiedevi per quanto riguarda il testo scritto che cosa e nel frattempo mentre Miriam chiarisce la domanda che voleva porre eh 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 riepilogo rapidamente questo quesito quale delle seguenti può essere confutata anzitutto nella logica cosa vuol dire confutare significa negare smentire falsificare contraddire questo significa confutare quindi qua mi chiede quale può essere contraddetta quale può essere smentita da una singola osservazione soltanto una proposizione universale sia essa universale negativa o universale affermativa ma comunque universale può essere smentita da una singola osservazione tutti i cigni sono bianchi basta che osservo un cigno non bianco per smentirla ok sì Miriam ho capito quando in un quesito c'è scritto quale indebolisce l'affermazione o il testo però questo tipo di domanda invece quale indebolisce afferisce alla comprensione del testo e quindi ti risponderò in modo eh esaustivo va bene ma lo farò nella lezione dedicata alla comprensione del testo perché dobbiamo arrivare appunto con uno svolgimento con una progressione adeguata quindi quella domanda che mi hai chiesto è una domanda relativa alla comprensione dei brani non è una domanda della logica no figurati e quindi ti risponderò ti risponderò me la rifarai me lo ricorderai tu ma probabilmente me la ricorderò io stesso oppure lo farei tu quando affronteremo la comprensione dei brani ci siamo allora in questo caso confutare negare con una singola osservazione solo un universale può essere smentita con una singola osservazione tutti i cigni sono bianchi osservo un solo cigno nero o fucsia o giallo non bianco abbiamo detto e ho smentito confutato l'asserzione universale questa è la chiave del quesito fatemi sapere se è tutto chiaro o se ci sono dubbi residui ok va bene va bene va bene allora veniamo alla nostra esercitazione di oggi le relativa all'implicazione voi vi ricordate il quadro sinottico delle proposizioni della logica elementari e composte che vi ho messo davanti a un certo punto tra le proposizioni composte ci sono la congiunzione la disgiunzione cosa ci manca ci manca l'implicazione l'ho lasciata come oggetto di una esercitazione a parte perché i quesiti relativi a implicazione spesso mettono in difficoltà sono una classe di quesiti particolarmente ostica allora nell'implicazione nel quadro dell'implicazione si distinguono in particolare tre condizioni la condizione sufficiente la condizione necessaria la condizione necessaria è sufficiente allora io qui vi lancio l'esercitazione senza dirvi niente ma è quasi come dire un atto di schismo perché è ovvio che avrete delle difficoltà ve lo dico subito ma lo faccio apposta non perché sono sadico a parte scherzi ma per farvi capire per farvi vedere che nel caso delle tre condizioni ripeto sufficiente necessaria necessaria e sufficiente o noi formalizziamo o non ne usciamo e questo è questa è tutta l'essenza della logica se noi ci prendiamo la briga e la fatica e ci mettiamo tutta l'ora che ci rimane ve l'assicuro di formalizzare pienamente queste tre relazioni e quest'area della logica noi risolviamo una volta e per tutte il nostro rapporto con questi quesiti ostici se noi non facciamo questa fatica per noi le risposte saranno sempre tutte uguali o quasi provare per credere vi lancio l'esercitazione non ve la scaglio ve la lancio nel senso che la faccio partire allora condizione sufficiente e condizione necessaria in tempo di didattica a distanza vi assicuro che la tentazione di scagliare di lanciare il computer ce l'ho avuta non poche volte ma cerco di resistere e mi limito finché posso a lanciare le esercitazioni ora siccome dovreste visualizzarla vi invito potete partire avete i soliti dieci minuti buon lavoro per ora non vi darò indicazioni dopo parleremo insieme mi confermate solo cortesemente se visualizzate correttamente la vostra esercitazione per favore ok buon lavoro buon divertimento che vi asciende un po' per고 la guardate sono sicuro di vittori un po' per si vittorica un po' per seguiremo il Grazie a tutti. 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 Scusate, intervengo solo per ricordarvi che prima della scadenza, quindi mancano un minuto e mezzo, dovete fare send, dovete fare invia prima della scadenza perché altrimenti non visualizzate i risultati. Grazie a tutti. 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 Martina non ti preoccupare perché tanto poi nelle slide tornano tutti quanti i quesiti ci sono i correttori va bene quindi ora ci torniamo allora nel quadro dell'implicazione si distinguono tre condizioni la condizione sufficiente la condizione necessaria e la condizione necessaria e sufficiente d'accordo e allora la da cosa si riconoscono la condizione sufficiente è introdotta da se la condizione necessaria introdotta da solo se la condizione necessaria e sufficiente introdotta da se e solo se cominciamo dalla condizione sufficiente che per ragioni anche didattiche è quella dalla quale conviene partire quindi andiamo adesso a mettere ad esplicitare mettere in ordine le proprietà della condizione sufficiente allora e la condizione la condizione sufficiente corrisponde ad una implicazione del tipo p implica q si scrive così si legge anche se p allora q va bene esempio se il vaso cade si rompe ok utilizziamo questa proposizione di partenza se il vaso cade si rompe va bene si formalizza così quindi p implica q dove p e q sono proposizioni elementari e la freccina indica uno speciale operatore logico che è appunto l'implicazione va bene l'implicazione semplice o unidirezionale freccina unidirezionale l'implicazione semplice che mette capo ad una relazione di condizione sufficiente ragazzi eh colleghi cortesemente passiamo avanti poi dopo sulle quesiti che non avete visualizzato probabilmente dovuto al fatto che non avete fatto invia o submit a fine questionario però eh voglio dire adesso entriamo continuiamo nel merito della spiegazione poi quando visualizziamo le slide ci sono i correttori quindi rivedrete tutti quanti questi però ora l'importante è che qui e ora capiamo allora ci siamo quindi in una proposizione di questo tipo se il vaso cade il vaso cade è la proposizione P e si rompe è la proposizione Q inoltre in una proposizione di questo tipo P prende il nome di antecedente e Q prende il nome di conseguente ok inoltre la relazione la relazione corrispondente ad una implicazione semplice come questa prende il nome di condizione sufficiente perché qual è il fondamento della definizione di condizione sufficiente perché l'antecedente basta a produrre il conseguente cioè il verificarsi dell'antecedente è appunto sufficiente a produrre il conseguente non richiede nessuna altra condizione non si richiede alcuna altra condizione per il prodotto perché si produca il conseguente eh all'infuori del verificarsi dell'antecedente cioè il vaso cade si rompe vuol dire tutte le volte che il vaso cade si rompe vuol dire il vaso non può cadere e restare intatto c'è un automatismo questo vuol dire la condizione sufficiente c'è un automatismo ad ogni caduta corrisponde una rottura scusate qui ho dimenticato mi sono mangiato una parola se il vaso cade si rompe questo è il nostro esempio un esempio diciamo abusato se vogliamo ma lo utilizziamo per mettere bene a fuoco le proprietà dell'implicazione semplice allora questa regola la differenza quindi questa proprietà formale per cui tutte le volte che si dà l'antecedente il conseguente seguirà prende il nome di modus ponens d'accordo? e uno potrebbe dire beh d'accordo ma è ovvio che tutte le volte che si dà l'antecedente il conseguente no non è ovvio tant'è vero che il modus ponens vale per la condizione sufficiente ma non vale per la condizione necessaria lo vedremo tra dieci minuti quando avremo finito con la condizione sufficiente intanto ricordiamoci che per la condizione sufficiente vale sempre il modus ponens quindi diciamo di nuovo che cos'è il modus ponens è quella regola di inferenza per cui tutte le volte che si dà l'antecedente il conseguente seguirà il modus ponens è questo automatismo il vaso cade si rompe eh ma è caduto da un millimetro è un vaso fragile non ci posso fare niente cade si rompe c'è poco da fare non è possibile che cada e rimanga intatto questo è il modus ponens questa è la condizione sufficiente questo ci dice questo enunciato va bene quindi da pi segue sempre q se pi allora q non ci si salva bene questa è la prima proprietà della condizione sufficiente andiamo ad esplicitare le altre perché dobbiamo ricostruire il quadro completo abbiamo detto se il vaso cade si romperà di sicuro in compenso se io trovo il vaso rotto supponiamo che il vaso sta in un altro locale della casa nel salotto entro il salotto e trovo il vaso rotto sono autorizzato a concludere che è sicuramente caduto secondo voi che dite no 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 è un plebiscito per il no e allora perché avete sbagliato proprio in questo modo parecchi di voi nella vostra esercitazione allora se il vaso cade si rompe di sicuro ma se è rotto non è detto che sia sicuramente caduto altrimenti detto si possono dare anche modi di rottura altri e diversi rispetto alla caduta per esempio ci tiro un sasso sopra il vaso si rompe lo stesso non è non è caduto eppure si può rompere pur non è caduto altrimenti detto per la condizione sufficiente non vale la reversibilità eccola qui non vale la reversibilità cioè affermando il conseguente il vaso è rotto cioè qui ci siamo nulla consegue se il vaso è rotto potrebbe essere caduto oppure no non lo so se arrivo in salotto e osservo la scena del vaso rotto non posso trarre conclusioni la condizione sufficiente non è reversibile allora attenzione perché facciamo qui un passaggio logico argomentativo importante perché se non vale la reversibilità non vale nemmeno la negazione dell'antecedente perché ve lo faccio vedere con un breve ragionamento verbale ok partendo proprio dalla non reversibilità abbiamo appena detto se il vaso è rotto non sono autorizzato a concludere che sia caduto perché si possono dare si potrebbero dare per quanto ne so anche modi di rottura diversi dalla caduta per esempio ci tira un sasso sopra si potrebbe rompere per non lo posso sapere non me lo dice questo enunciato non me lo dichiara si potrebbe anche rompere se ci tiro un sasso ma se ci tiro un sasso vuol dire che non è caduto e pur non essendo caduto potrebbe lo stesso rompersi quindi dal fatto che non cade non posso concludere che non si romperà perché potrebbe non cadere pur tuttavia rompersi per esempio se ci tiro il sasso e quindi nella condizione sufficiente anche da non pi cioè dalla negazione dell'antecedente non sequitur nulla consegue non posso trarre alcuna conclusione è un corollario della reversibilità o meglio la non validità della negazione dell'antecedente è un corollario della non reversibilità è agganciato alla reversibilità non vale l'una non vale neanche l'altra poi facciamo una sintesi generale intanto concludiamo con l'ultima proprietà vedete abbiamo detto fin qui per la condizione sufficiente vale il modus ponens non vale la reversibilità e non vale neanche il corollario della reversibilità alias negazione dell'antecedente infine se io arrivo in salotto e trovo che il vaso non è rotto posso concludere qualcosa in modo certo il vaso non è caduto non è caduto perché se fosse caduto sicuramente sarebbe rotto si sarebbe rotto cioè sarebbe scattato inesorabilmente il modus ponens ci siamo quindi dalla non rottura si deriva la non caduta eccolo qui allora riflettete un momento su quanto vi ho appena detto perché se voi sapete e metabolizzate queste cose quei quesiti dell'esercitazione iniziale voi non li sbagliate più virtualmente non li sbagliate mai più perché guardate adesso pulisco e ve la metto in modo solo leggermente diverso come vedete per la condizione sufficiente sono quattro regole di inferenza due valide due non valide ma guardate che nella logica una volta che le cose le sappiamo poi non sbagliate virtualmente non sbagliamo più quando voi dite questione di tempo ci mettono alle strette con il tempo colleghi vi posso dire una cosa non è vero non è vero non è il fattore tempo non è così importante qua rispondete se la logica la sappiamo ha una domanda di logica in cui non sappiamo rispondere in 30 secondi non sappiamo rispondere neanche in 5 minuti ve lo posso assicurare ma io credo che anche voi ve ne stiate rendendo conto la differenza la fa conoscere o non conoscere la logica è molto semplice il tempo è un elemento secondario quindi ve lo posso dire con tutta e completa onestà ma lo faccio veramente per voi per darvi questa indicazione non trovatevi le scuse non trovatevi le scuse non è vero che è questione di tempo non è vero che giocano a confonderci non è vero niente è vero che selezionano poi se sia la modalità di reclutamento giusta no non entriamo su questo perché poi dovremmo fare un lungo dibattito un lungo dibattito ma la differenza la fa la conoscenza della logica nient'altro va bene marta certo naturalmente la registrazione viene messa a disposizione quindi avrai tutto quanto alla prossima allora piccolo riepilogo sono quattro regole di inferenza a due a due valide e non valide per la condizione sufficiente per la condizione sufficiente è sempre valido il modus ponens e il modus tollens d'accordo quindi i due modi si ricorda facilmente io quando è valido metto il visto così mentre metto una bella croce per dire che non vale né la reversibilità né il suo corollario alias negazione dell'antecedente d'accordo quindi dato un qualunque dato una qualunque proposizione della logica p implica q su cosa succede sappiamo già tutto se si verifica p allora segue sempre q modus ponens se non q allora se sempre non p modus tollens se q nulla consegue non posso predire nulla da non p analogamente nulla consegue ci siamo allora adesso prima di passare quesiti facciamo un piccolo esercizio così per consolidare cioè partendo sempre dalla proposizione se il vaso cade si rompe d'accordo io vi porrò una condizione iniziale voi mi direte se e cosa posso dire proviamo allora abbiamo se il vaso cade si rompe quindi il vaso è rotto potrebbe non è detto esatto nulla consegue avete risposto tutti bene potrebbe potrebbe bene la c'è un c'è un c'è un condizionale c'è una ipoteticità nulla di certo nulla consegue perché la condizione sufficiente non è reversibile benissimo allora vediamo che cos'altro il vaso non è rotto esatto non è caduto e mi avete anche spiegato perché in virtù del modus tollens non ho nulla da aggiungere bene ok il vaso mi è appena mi è appena caduto supponiamo che io possa bloccare ad un fotogramma che pone il vaso a metà altezza se il vaso mi è scivolato dalle mani cosa succederà e si rompe sicuro in virtù del modus tollens benissimo per finire il vaso non è caduto se il vaso non cade cosa posso eventualmente dire potrebbe rompersi potrebbe non rompersi non lo so nulla consegue bene bene ci siamo ci siamo allora che dite già così ne sbagliereste di meno nell'esercitazione che avete fatto venti minuti fa non dovete dirmi per forza di sì eh se non siete d'accordo mi potete dire anche di no no non è vero le sbaglierei tutte lo stesso ok andiamo avanti forse non segui tour nulla consegue ok allora riepilogo riepilogo vediamo allora abbiamo detto che per la condizione sufficiente valgono modus ponens e modus tollens non valgono la reversibilità e il suo corollario questo da un punto di vista se il vaso è infrangibile hai una condizione necessaria ne parliamo tra cinque minuti allora eh quello della condizione sufficiente invece è un vaso fragile dunque abbiamo visto la formalizzazione ecco qui tradotto non dobbiamo fare sempre questo lavoro va bene di passare dalla formalizzazione ai possibili esempi linguistici è un passaggio che possiamo fare ovviamente a piacere se il vaso cade si rompe si ha quello che avete detto voi quindi potete vedete leggere state visionando la slide con le quattro proprietà a due a due valide non valide per la condizione sufficiente ora prego ditemi tutto questa che cos'è anzitutto è una condizione sufficiente guardate da cosa la riconosco dal fatto che è introdotta da se quindi la condizione sufficiente introdotta da se e formule equivalenti perché attenzione dire se e dire tutte le volte che e dire ogni volta che è esattamente la stessa cosa perché dire se e tutte le volte che è lo lo stesso nella logica il fondamento sta appunto nel modus ponens che vi ho detto prima dire se il vaso cade si rompe equivale a dire tutte le volte che il vaso cade si rompe ecco perché è la stessa cosa e dire quando è ancora lo stesso quindi ricordate che nella logica è lo stesso dire se tutte le volte che ogni volta che e quando ora io vi invito dopo che abbiamo detto che per la condizione sufficiente quindi vale il modus ponens vale il modus tollens non vale la reversibilità e non vale il suo corollario a fare ora questo lavoro di riconduzione cioè facciamo il lavoro di ricondurre ciascuna delle opzioni di risposta alla sua forma logica generale perché noi dobbiamo sapere conoscere e poi avere anche memorizzato le proprietà formali valide e non valide per la condizione sufficiente e poi andarle a come dire proiettare sulle opzioni di risposta riconoscendo in ciascuna di esse una proprietà formale valida o non valida per la condizione sufficiente allora attenzione perché le vediamo una ad una la a a quale regola di inferenza cioè a quale schema formale tra i quattro che abbiamo visti corrisponde la televisione spenta vuol dire che la televisione non è accesa siete d'accordo quindi negazione dell'antecedente quindi quello è il corollario della reversibilità da non p nulla consegue via la b a cosa corrisponde francesca non si rilassa andate a vedere sull'implicazione di partenza che cos'è questo che cos'è è la negazione del conseguente la vedete la negazione del conseguente avvia la regola di inferenza del modus tollens no lo vedete dunque se la televisione è accesa francesca si rilassa quindi se non si rilassa vuol dire che la televisione non è accesa perché se fosse accesa sicuramente si rilasserebbe effetto soporifero garantito su francesca la b è la nostra risposta perché corrisponde alla forma generale del modus tollens mi sono perso un pezzo di chat quindi sarà non so per cosa ti stai scusando ma fammi sapere ovviamente se è tutto chiaro la c se francesca si rilassa fermi allora come si fanno questi quesiti eh diciamo puntualizziamo ancora meglio la procedura va bene allora voi qui avete l'implicazione di partenza la chiamiamo così le possibili candidate alle opzioni di risposta le chiamiamo l'implicazione derivata dobbiamo dire se queste sono derivabili da quella posta ci siamo quindi implicazione di partenza implicazione di derivata noi partiamo sempre abbiamo detto la e la b e semplifichiamo con la c partiamo sempre dall'antecedente dell'implicazione derivata l'antecedente dell'implicazione derivata in questo caso francesca si rilassa rispetto all'implicazione di partenza che cos'è è l'affermazione del conseguente lo vedete si pone il conseguente l'affermazione del conseguente avvia quale schema formale quello della reversibilità la condizione sufficiente è reversibile no a chi ha risposto a c ha commesso un errore tipico ma tutti gli errori della logica sono errori tipici non esistono errori non tipici ok quindi vedete si pone si afferma il conseguente si pretende di derivarne l'antecedente assolutamente no perché questo vuol dire postulare la reversibilità della condizione sufficiente la risposta di la televisione non è accesa francesca non si rilassa è esattamente come la a sono due enunciati diversi ma è la stessa proposizione perché dire che la televisione non è accesa e dire che è spenta vogliono dire esattamente la stessa cosa e quindi alla d come alla a troviamo il corollario della reversibilità pulisco e riepilogo un'ultima volta allora la a corrisponde alla negazione dell'antecedente non valido per la condizione sufficiente la b corrisponde al modus tollens sempre valido per la condizione sufficiente e quindi è la nostra risposta la c corrisponde alla reversibilità non valida per la condizione sufficiente la d corrisponde di nuovo al corollario della reversibilità ce ne sono tanti quindi senza che mi dilungo ancora su questo andiamo sugli altri intanto in questa slide è riepilogato il funzionamento del modus tollens di questo meccanismo vedete che è proprio un meccanismo lo chiamo proprio così intenzionalmente per ribadire l'elemento meccanico del pensiero di questo si occupa la logica si chiama formale logica formale proprio perché si occupa dell'aspetto meccanico formale del pensiero ecco qui riepilogato il modus tollens queste quattro regole di inferenza guardate potete ricordarvele anche così l'affermazione dell'antecedente innesca il modus ponens la negazione del conseguente eccola qui innesca il modus tollens l'affermazione del conseguente innesca la reversibilità e la negazione dell'antecedente innesca il corollario della reversibilità in effetti il modus ponens si chiama così perché perché si pone appunto cioè si afferma l'antecedente ne deriva sempre il conseguente il modus tollens lo vedete qui in questa slide si chiama così perché perché si toglie cioè si nega il conseguente ne deriva la negazione dell'antecedente eccola qua allora quale regola mi chiedete di ripetere intanto vi esorto veramente a capire fissare anche nella vostra memoria questa regola formale vedete se il vaso cade si rompe non è rotto non q quindi non è caduto non p prendete visione e poi andiamo avanti mentre aspetto le eventuali domande allora il modus tollens è la negazione del conseguente il modus ponens è l'affermazione dell'antecedente se il vaso cade si rompe è caduto quindi cosa sto facendo sto affermando sto ribadendo sto ponendo l'antecedente allora ripeto affermazione dell'antecedente sì le lezioni sono registrate affermazione dell'antecedente modus ponens negazione dell'antecedente corollario della reversibilità poi spostiamoci sul conseguente affermazione del conseguente reversibilità non valida per la condizione sufficiente e infine negazione del conseguente modus tollens sempre valido per la condizione sufficiente notate anche cortesemente che queste proprietà formali sono a due a due agganciate tra di loro cioè così come la negazione dell'antecedente è un corollario della reversibilità e quindi laddove vale la reversibilità non vale neanche la negazione dell'antecedente anche il modus ponens e il modus tollens sono strettamente agganciati tra di loro il modus tollens si deriva dal ponens lo vedete se il vaso cade si rompe non è rotto quindi non è caduto modus tollens perché perché se fosse caduto si sarebbe sicuramente rotto modus ponens quindi o valgono tutte e due o non vale nessuno dei due nel caso della sufficiente valgono entrambi se p implica q dice elisabetta di conseguenza non q e di conseguenza non p vale anche il contrario il contrario di cosa se p implica q e quindi non q implica non p questo è il modus tollens come sta stiamo anche visualizzando il contrario quale sarebbe ci siamo allora mentre aspetto la l'eventuale domanda potete già visualizzare questa domanda no e vedere se applicando quello che abbiamo detto sì simona se q no q che cos'è è il conseguente se io affermo il conseguente non nulla consegue dall'affermazione del conseguente non posso derivare né q né non q esattamente perché nulla consegue perché non vale la reversibilità no non p non implica non q perché non p è la negazione dell'antecedente che è il corollario della reversibilità da cui quindi nulla consegue allora ce ne sono tanti quindi piuttosto che diciamo soffermarci su quell'esempio io sarei per andare ad esplorare gli altri perché sono costruiti secondo lo stesso schema qui anzitutto voi riconoscete che è una condizione sufficiente perché riconoscete che è sufficiente perché c'è il se se è sufficiente immediatamente si aprirà nella vostra mente validi modus ponens e modus tollens non validi la reversibilità del suo corollario l'unica variante qui consiste nel fatto che il conseguente non è affermativo ma è negativo e quindi questo significa gli schemi formali che abbiamo visto vanno adattati di conseguenza perché qui l'implicazione di partenza non è pi implica q ma è pi implica non q va bene ci siamo in che modo vanno adattati gli schemi che abbiamo visto vi faccio vedere è fondamentale che noi possiamo disporre di una definizione discorsiva del modus tollens perché dico questo ve lo spiego subito allora concentriamoci un momento modus tollens ci serve una definizione discorsiva tra breve vi dico perché che è questa il modus tollens è quella regola formale in virtù della quale nell'implicazione derivata troveremo all'antecedente il conseguente dell'implicazione di partenza negato vedete analogamente al conseguente dell'implicazione derivata troveremo l'antecedente dell'implicazione di partenza anch'esso negato eccola qua vi trovate perché abbiamo bisogno di questa definizione di carattere discorsivo ma perché ci permette di prevedere e ricomprendere tutti i casi particolari che si possono ottenere secondo che antecedente conseguente siano di volta in volta affermativo negativi e quanti sono questi casi non sono tanti sono quattro sono questi sono le quattro varianti del modus tollens che si ottengono per antecedente e conseguente di volta in volta affermativi o negativi vedete lo numerate da uno punto uno a uno punto quattro proprio per sottolineare che non sono quattro diverse eh proprietà ma quattro varianti dello stesso schema della stessa eh regola generale vedete uno punto uno antecedente e conseguente tutte e due affermativi uno punto due antecedente affermativo conseguente negativo uno punto tre entrambi negativi uno punto quattro antecedente negativo e conseguente affermativo ok le quattro varianti del modus tollens se io adesso vi recito di nuovo tipo mantra la formula generale del modus tollens che vi ho prima introdotto nella sua forma discorsiva voi vedrete che ci rientrano tutti e quattro questi casi guardate nell'implicazione derivata cioè l'opzione di risposta giusta troveremo all'antecedente il conseguente dell'implicazione di partenza negato che vuol dire negativo se era affermativo ma affermativo se era negativo come avviene qua analogamente a conseguente dell'implicazione derivata troveremo l'antecedente dell'implicazione di partenza anch'esso negato e cioè di nuovo negativo se era affermativo ma affermativo se invece era negativo ci siamo questo vuol dire che tornando ora al quesito che avevamo visto prima voi mi direte a quale di questi quattro casi corrisponde se c'è il sole marco non balbetta antecedente affermativo conseguente negativo qual è eccolo qua l'avete visto no è uno punto due se c'è il sole marco non balbetta quindi se marco sta balbettando possiamo essere certissimi che non c'è il sole perché se ci fosse il sole marco non balbetterebbe quindi esempio volutamente fessacchiotto per stare a ribadire per l'ennesima volta che la folla contenuto non conta assolutamente nulla vedete ecco qua marco sta balbettando è la negazione del conseguente quindi la nostra risposta è la b perché corrisponde alla forma generale del modus tollens nel caso in cui l'antecedente sia affermativo e il conseguente sia negativo quindi corrisponde a 1.2 eccola qua va bene vediamone qualche altro allora questo quesito non si basava invece su una delle quattro proprietà che vi ho che vi ho introdotto ma su una proprietà che in realtà non ho introdotto perché è trasversale sia la condizione sufficiente che abbiamo visto che è la condizione necessaria che ancora dobbiamo vedere e cioè a tutti i tipi di implicazione che è la proprietà transitiva guardate cosa succede qui qua vi dice che due sono sposate cioè la traduzione logica dovrebbe essere per due di queste tre vale la proprietà essere sposate però noi la facciamo breve due sono sposate dopodiché ci sono due implicazioni cosa sono queste se non delle implicazioni delle condizioni sufficienti se Giorgia è sposata allora lo è anche Federica quindi vuol dire che Giorgia implica Federica io i logici sono tutti pigri e quindi io a brevio così che me che mi importa che si chiama Giorgia G implica F sono proposizioni no la proposizione Giorgia è sposata in realtà la a brevio alla sua forma logica minima lo è anche Federica se Federica è sposata lo è anche Marina quindi F implica M allora voi vedete bene che queste due implicazioni ne implicano una terza cioè G implica M cioè se Giorgia allora Federica ma ma se Federica allora Marina questo è rapportato alla logica di fondo del quesito equivale a dire che se Giorgia fosse sposata sarebbero sposate tutte e tre perché Giorgia come dire avvia una catena deduttiva no se Giorgia Federica se Federica Marina quindi se Giorgia fosse sposata tutte e tre sarebbero sposate ma questo è impossibile perché quelle sposate sono solo due quindi Giorgia non può essere sposata e le altre due lo sono risposta a proprietà transitiva non facciamo altro se non dire che la l'implicazione gode della proprietà transitiva questo tra l'altro vi segnalo che è uno schema di quesito piuttosto diffuso piuttosto comune eh è abbastanza frequente poi viene ovviamente di volta in volta riempito con contenuti diversi invece delle tre sposate trovate tre sorelle trovate tre banche trovate tre cose diverse ma lo schema generale è questo allora lo spieghiamo di nuovo ok vediamo dunque qui voi avete che sono due quelle sposate quindi due sono sposate e una no questo è diciamo il dato dopodiché per la per l'implicazione vale la proprietà transitiva che guardate si formalizza così se P implica Q e quella dovrebbe essere una parentesi scusate ma insomma basta che ci capiamo e Q implica R allora P implica R è la vecchia proprietà transitiva che abbiamo studiato alle medie se non alle elementari insomma tutti conosciamo la proprietà transitiva vedete P implica Q implica che se Q implica P allora P implica R eccola qua giusto allora se voi sostituite Giorgia in P Federica in Q e Marina in R che cosa ottenete allora ottenete che G implica F F implica che se F implica M allora G implica M che cosa ho fatto ho sostituito G in P F in Q e M in R quindi questo è lo strumento concettuale della logica formale andandola ad applicare qui al nostro quesito che cosa significa e siccome quelle sposate sono soltanto due se noi ipotizziamo no noi facciamo finta facciamo l'ipotesi che Giorgia sia sposata va bene se Giorgia è sposata cosa succede Giorgia implica Federica quindi se Giorgia è sposata è sposata pure Federica ma Federica implica Marina quindi sarebbe sposata in questo caso anche Marina quindi se Giorgia è sposata è sposata Giorgia è sposata Federica è sposata Marina sono sposate tutte e tre possono essere sposate tutte e tre no perché quelle sposate sono soltanto due quindi Giorgia non è sposata quindi risposta scusatemi solo un istante eccomi qua era veramente un istante ci siamo allora poi ovviamente lo potete riascoltare la spiegazione tutte le volte che volete però eh ma perché proprio Giorgia perché non lo dico io o non lo diciamo noi lo dice il quesito Giorgia è posta all'inizio di questa catena inferenziale vedi non non lo sto interpretando me lo dicono loro me lo dice il quesito il quesito mi dice se già l'implicazione è un dispositivo ipotetico io non so se Giorgia è sposata ma se lo è allora sicuramente lo è anche Federica se il vaso cade si rompe no Giorgia è sposata è il vaso cade Federica è sposata e il vaso si rompe perché non vi torna è la stessa cosa no il modus ponens se Giorgia è Federica se Giorgia è sposata lo è pure Federica ma se Federica è sposata lo è pure Marina siccome devono essere due e siccome Giorgia è all'inizio quindi voi dovete andare a cercare in questo caso eh diciamo quella in questo caso che sta all'inizio della catena deduttiva a come dire no è una catena inferenziale se Giorgia allora Federica allora Marina quindi tutte e tre ma questo è impossibile quindi non Giorgia ehm sì beh no sono due classi di siti diversi perché quello si basava però ovviamente ci sono delle cose in comune per esempio la affermazione negazione e negazione di proposizioni quindi valori di verità certamente ci sono degli aspetti in comune allora io suggerisco perché poi avete anche l'altra esercitazione di andare un pochino più eh rapidi ok allora adesso prima di questo però vi volevo far vedere eccolo qua il quesito voi lo ricordate questo allora lo ricordate no allora questo qui invece è un quesito su condizione necessaria perché condizione necessaria perché è introdotta da solo se quindi diciamo anzitutto che la condizione sufficiente è introdotta da se quando tutte le volte che ogni volta che va bene mentre la condizione necessaria è introdotta da solo se e formule equivalenti quindi solo se soltanto se solamente se va bene allora partiamo per capirci per intenderci lasciate stare un attimo la soluzione del quesito e ascoltatemi solo un minuto allora prendiamo lo stesso esempio di prima se il vaso cade si rompe ma gli facciamo una piccola modifica che non è così piccola e diciamo solo se il vaso cade si rompe solo se il vaso cade ok si rompe quindi solo se il vaso cade si rompe mi sono mangiato di nuovo cade ma fa niente ok e qui disegnare un po più semplice ma scrivere proprio avrei la possibilità di scrivere con il testo vabbè dai sono cose un po veloci tanto ci capiamo allora ho esattamente se io dico solo se solo se questa volta se io arrivo in salotto e trovo il vaso rotto posso dire con assoluta sicurezza che è caduto perché non si danno altre cause di rottura diverse dalla caduta questa volta si rompe solo se cade e quindi sono certo e quindi vale la reversibilità e se vale la reversibilità vale anche il corollario perché già che si rompe solo se cade allora se non cade posso essere questa volta sicurissimo che non si rompe vale la reversibilità e vale il suo corollario il corollario della la reversibilità lo troviamo alla risposta c che come vedete infatti prende avvio dalla negazione dell'antecedente se l'amministratore non procura le chiavi non c'è modo che io possa aprire i cancelli perché io posso aprire i cancelli solo se mi procura le chiavi quindi facendo una primissima sintesi che dovremo ampliare per la condizione necessaria diversamente dalla sufficiente valgono la reversibilità e il suo corollario se state sospettando che tutto quello che vale per la sufficiente non vale per la necessaria e viceversa avete perfettamente ragione perché è esattamente così sono le due facce della stessa medaglia sono perfettamente inverse e speculari infatti laddove per la condizione necessaria vale la reversibilità e quindi il corollario non valgono quindi né il modus ponens né il modus tollens cosa vuol dire che per la necessaria non vale il modus ponens perché questo è largamente controintuitivo non vale il modus ponens significa che nella condizione necessaria diversamente dalla sufficiente dato l'antecedente il conseguente può seguire o non seguire cioè il vaso si rompe solo se cade ma quando il vaso cade non è detto che si rompa si rompe solo cadendo ma non si rompe tutte le volte che cade quindi ad una rottura può seguire o non seguire una caduta non è detto laddove nella sufficiente eh io non posso fare nessuna previsione a partire dalla negazione dell'antecedente nella necessaria non posso fare alcuna previsione a partire dall'affermazione dell'antecedente perché se il vaso cade potrebbe rompersi o non rompersi e attenzione per la stessa ragione non vale neanche il modus tollens allora la d mi dice se l'amministratore mi procura le chiavi è certo che possa aprire i cancelli no lo sto dicendo adesso perché nella condizione necessaria non vale il modus ponens e questo che cos'è l'amministratore procura le chiavi è rispetto all'implicazione di partenza è l'antecedente l'affermazione dell'antecedente corrisponde a quale schema formale al modus ponens ma il modus ponens non vale per la condizione necessaria d'accordo ripeto solo se il vaso cade si rompe vuol dire che questa volta la relazione è irreversibile quindi se è rotto è sicuramente perché è caduto quindi vale anche il corollario cioè se non cade non c'è modo che si rompa perché si rompe solo cadendo ma non vale il modus ponens quindi se cade potrebbe rompersi o non rompersi e per la stessa ragione non vale neanche il modus tollens che come abbiamo già dimostrato parlando della condizione sufficiente è sempre strettamente agganciato al modus ponens laddove non vale l'uno non vale neanche l'altro allora risposta c perché corrisponde al meccanismo formale della negazione dell'antecedente per gli amici corollario della reversibilità a e di sono uguali sì certo è ottima osservazione legata alla coerenza interna delle opzioni di risposta la a e la b dicono esattamente lo stesso in modo leggermente diverso se l'amministratore mi procura le chiavi l'antecedente uguale poi il conseguente dice sicuramente posso aprire cancelli risposta a e è certo che posso aprire le cancelli dicono esattamente lo stesso simona non voglio dire devi schematizzare perché la logica ci conduce proprio a questo ok adesso ti faccio vedere intanto l'importante è che abbiamo capito arriviamo subito al super schema intanto vi chiedo mentre visualizzate questa slide che riepiloga le informazioni che vi ho appena detto vi dico che io ho bisogno di ancora di qualche minuto per concludere la spiegazione e poi c'è la vostra esercitazione quindi anche in questo caso come dire vi propongo un'estensione di un quarto d'ora finiamo sempre un po le sette un quarto perché ci teniamo a che sia completo tutto quanto il percorso per chi vuole restare io resto sicuramente fino alle sette un quarto sette venti il tempo di fare anche la seconda esercitazione di dieci minuti che quindi lanceremo non oltre le sette dieci va bene in modo che le sette venti finiamo massimo e poi ovviamente riprenderemo già vi servirà per rendervi conto del per iniziare diciamo quantomeno ad applicare le cose che abbiamo detto dopodiché sabato prossimo riprenderemo rapidamente dalla puntualizzazione dei quesiti di questa esercitazione allora arriviamo subito avete visto questa ok ci siamo allora volete formalizzare eccovi qua pronti siamo pronti eh a questo punto per il per lo schema finale per il super schema per il meta schema non lo so come lo vogliamo chiamare allora schema di massima sintesi delle proprietà valide e non valide per la condizione sufficiente per la necessaria come lo leggiamo eh allora vi esorto anzitutto a focalizzarvi su queste quattro informazioni e a tralasciare per un momento le due righe sotto in grassetto perché spieghiamo prima anzitutto vi introduco un simbolo laddove abbiamo usato la and fino a questo momento per indicare la congiunzione logica ecco qui questa questa diciamo a senza la stanghetta orizzontale per dire così questo è il simbolo della congiunzione della end logica ci siamo quindi questo vuol dire che come vedete al punto uno troviamo che cosa il modus ponens vedete si formalizza in questa maniera p implica q e p implica q cioè se io p implica q come implicazione di partenza e p si verifica allora certamente ne seguirà q vedete il modo in cui si formalizza il modus ponens potete sostituire a piacere con esempi linguistici se il vaso cade si rompe ma il vaso è caduto quindi si romperà eccolo qui allo schema 2 trovate la formalizzazione del modus tollens nella sua forma standard con antecedente conseguente entrambi affermativi la mettiamo per ragioni di sintesi nella forma standard poi voi sapete ovviamente che qua dentro ci dovrebbero stare ci stanno di fatto 2.1 2.3 2.4 secondo che ciao alisabetta grazie a te secondo che antecedente e conseguente siano affermativi o negativi ma per ragioni di sintesi lo omettiamo lo sappiamo stanno là dentro d'altra parte guardate che anche dentro la reversibilità vale esattamente lo stesso perché anche per la reversibilità antecedente e conseguente possono essere affermativi o negativi e anche per la negazione dell'antecedente lo diamo per assodato e riportiamo ciascuna delle regole di inferenza nella sua forma logica eh nella sua forma generale standard per antecedente e conseguente entrambi affermativi ora la cosa molto importante qui adesso 30 secondi e poi anche eh ripercorrendo il lavoro fatto con la con l'aiuto della registrazione e nei vostri primi passi esercizi eccetera è che voi prendiate attentamente visione di queste formalizzazioni no dicevamo all'inizio se non abbiamo le chiavi le regole formali le risposte ci sembrano tutte uguali no sono tutte diverse e questo vuol dire che adesso che avete già fatto dei passi avanti in queste due ore voi siete in grado di distinguere queste diverse formalizzazioni ad uno sguardo non esperto sembrerebbero tutte uguali invece sono cose molto diverse tra di loro quindi io vi chiedo di prendervi 30 secondi per accertarvi che queste scritture formali siano a questo punto chiare ok 30 secondi in cui non parlo non vi dico niente allora queste quattro regole formali sono sono qui presentate da prima in modo asettico indipendentemente dalla loro validità o meno perché valgono non valgono valgono non valgono secondo che stiamo parlando della condizione sufficiente o della necessaria quindi intanto qui sono formalizzate dopodiché diremo che per la condizione sufficiente valgono la uno e la due cioè il modus ponens e modus tollens ma non tre e quattro e per la condizione necessaria valgono tre e quattro ma non uno e due quindi poiché oggi ci apprestiamo alla conclusione ecco qui la richiesta che mi avete fatto di formalizzazione riflettete attentamente su questi schemi vi faccio un'ultima domanda se per la condizione sufficiente introdotta da sé valgono il modus ponens e il tollens ma non la reversibilità del suo corollario e per la necessaria viceversa per la necessaria e sufficiente introdotta da sé e solo sé tutte esattamente bravi brave esatto tutte perché nel caso della necessaria e sufficiente valgono i due modi in virtù della sufficiente e la reversibilità in quanto è anche necessaria ecco perché didatticamente si parte dalla sufficiente e dalla necessaria perché una volta capita la differenza è chiaro che è molto agevole a questo punto capire la condizione necessaria e sufficiente questo rende anche di norma un po' meno interessanti i quesiti relativi a condizione necessaria e sufficiente che si costruiscono di norma comunque introducendo per una delle opzioni di risposta o per tutte tranne una secondo come si vuole costruire una limitazione una restrizione all'ampiezza del dispositivo di implicazione che non ha ragion d'essere essendo il dispositivo più onnicomprensivo dei tre come accade per esempio nel numero 4 vedete se e solo se ho risparmiato compro l'automobile qui vale tutto se ho risparmiato compro sicuramente l'automobile perché è una condizione sufficiente se non compro l'automobile è perché non ho risparmiato per il modus tollens se non risparmio non c'è modo che compro l'automobile perché questa è pure necessaria e quindi se compro l'automobile è perché ho risparmiato in forza della reversibilità so che a questo punto mi avete capito e seguito no Simona per carità qua non c'entra niente come dire l'intelligenza però c'entra invece un'altra cosa c'entra la conoscenza della logica che è come dire siete per quanto riguarda la logica per tante ragioni sulle quali non vi posso dilungare un forviati mentre io credo che in queste quattro ore passate insieme avete iniziato a come dire addentrarvi nella logica e bisogna solo fare questo lavoro specifico che è un lavoro specifico allora se compro l'automobile significa che ho risparmiato perché compro l'automobile è il conseguente quindi è reversibile perché è anche necessaria vedete che in tutti gli altri casi qual è il dispositivo adottato viene introdotta una restrizione che però qui non ha ragion d'essere non può sussistere nessuna restrizione perché è necessaria e sufficiente quindi è assolutamente reciprocamente vincolante nella relazione tra antecedente e conseguente eccoci qua allora io direi a questo punto siccome abbiamo visto per classi tipologiche sia l'antecedente eh buonanotte sia la sufficiente che la necessaria che la necessaria è sufficiente andiamo a completare eh rapidamente la correzione e poi lanciamo per chi vuole la seconda esercitazione se seguirai il mio consiglio condizione sufficiente sono entrambi affermativi quindi se non è andato tutto bene che è la negazione del conseguente vuol dire che non hai seguito il mio consiglio perché se avessi seguito il mio consiglio sarebbe andato tutto bene il solito modus tollens sei b sette tutte le volte che volte mi c'è vedete ho rimesso in modo ripetitivo ossessivo il modus tollens così con la ripetizione lo assimiliamo se volta appena concluso una gara ma non sta esultando col gesto della freccia vuol dire che non ha vinto perché se avesse vinto immancabilmente avrebbe eseguito il suo rituale risposta ci so che a questo punto possa andare un po' più spedito perché abbiamo capito il meccanismo quindi solo se bevo la tisana attenzione questa è necessaria se è necessaria vale la reversibilità vale il suo corollario non valgono i due modi quindi vedete che se non bevo la tisana questo cos'è la negazione dell'antecedente se ne deriva correttamente la negazione del conseguente proprio perché si tratta di una condizione necessaria quindi risposta di ora la nove se la porta è chiusa a chiave marco non è in casa quindi questa volta l'implicazione di partenza e p implica non q e per antecedente affermativo e conseguente relativo quindi modus tollens uno punto due per la precisione se ricordate vuol dire che se marco è in casa negazione del conseguente la porta non è chiusa a chiave perché se fosse chiusa a chiave marco non sarebbe che vedete che una volta che abbiamo capito buon fine settimana anche a te e alla prossima e intanto vediamo il dieci tutte le volte che uguale se abbiamo detto anche prima che vogliono dire la stessa cosa tutte le volte che la mamma le legge biancaneve aurora si addormenta quindi possiamo essere certi che se qui è necessaria questa indicazione tutto sommato no se la mamma appena finito di leggere una fiaba ma aurora non si è addormentata negazione del conseguente vuol dire che la fiaba non era biancaneve perché per via del modus ponens se fosse stata biancaneve avrebbe avuto un effetto soporifero su aurora si sarebbe addormentata immediatamente risposta c allora a questo punto stiamo per lanciare l'esercitazione conclusiva ci siete ancora o siete stati tramortiti dal modus tollens possiamo lanciarla avete domande nella condizione sufficiente necessaria si bisogna tener presente che valgono tutte e quattro e poi fare attenzione a come è costruito il quesito ce ne saranno o tre che introducono una restrizione quindi in termini di eh presentando eh la conseguenza in termini di possibilità laddove invece è certa oppure viceversa ce ne saranno tre certe e una no e questo dipende ma insomma sostanzialmente si tratta di questo allora a questo punto io sarei per lanciare l'esercitazione dieci minuti di buona concentrazione per finire questo incontro di oggi e poi ci rivediamo solo un momento dopo l'esercitazione per i saluti dunque eccola qui dovrebbe apparire fatemi sapere se la visualizzate correttamente bene e vedrete insomma ma non vi vi dico niente buon lavoro buon esercitazione io intanto eh vi accompagnerò insomma visionando quello che le vostre risposte Grazie 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 Dunque faccio anche in questo caso la mia apparizione a due minuti da fine per ricordarvi di fare submit se poi volete visualizzare i risultati intanto vi dico che stiamo facendo sensibilmente meglio rispetto all'esercitazione in ingresso buonasera e alla prossima sabato 19 per chi sta andando via grazie vedete ancora 40 secondi allora ci siamo adesso facciamo vedere i risultati l'app con la quale ho formulato questa questa esercitazione è un'applicazione interna alla piattaforma per creare sondaggi tecnicamente ma quindi anche esercitazioni come quella che ho appena formulato per Simone Edizioni ho scritto insieme a Gaspare Serroni un manuale di logica per le professioni sanitarie per l'area medico-sanitaria ma in ogni caso la logica è ovviamente trasversale e poi per Anicia sono autore del corso di logica per tutti i tipi di selezione 2015 che nacque tra l'altro proprio a margine dell'attività di formazione per il precedente concorso a cattedra per la propria detettiva del concorso a cattedra del 2013 allora i riferimenti quindi per quanto riguarda l'ultimo libro che vi ho menzionato tutto sul sito trovate tutti quanti i riferimenti corso di logica molto semplice corso di logica per tutti i tipi di selezione ecco che puntualmente Alessandro vi fornisce il link l'editore Anicia anno di edizione 2015 va bene? poi sul sito trovate tutti anche altri riferimenti bibliografici di testi che potete utilizzare detto questo vi condivido condivido i risultati in modo che possiate visionare sono andati molto meglio di prima d'accordo? quindi vedete non vi dico bugie ma vi dico semplicemente questo perché la logica quando parliamo di logica di questo parliamo la logica è sempre logica formale quindi bisogna acquisire prima non sapevate come funziona una condizione sufficiente e la condizione necessaria adesso invece le cose sono diverse perché avete le chiavi a questo punto si tratta di consolidare tra l'altro la struttura guardate veramente della prima e della seconda esercitazione è proprio volutamente molto simile vi voglio solo far capire la differenza tra il prima e il dopo che come vi ho detto altre volte è la differenza tra il giorno e la notte perché la logica non è questione di intuizione di buonsenso ma di regole e procedure che vanno apprese e certamente questo implica una fatica in più rispetto al semplice svolgimento di una serie di esercizi ma i risultati sono molto più stabili e decisivi ok allora concludo anche perché ho abusato della vostra pazienza sono le sette e mezza quindi non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e per la sempre attiva partecipazione e rimandarvi al nostro incontro del di sabato diciannove d'accordo grazie a voi e buona serata a tutti e a tutte grazie a tutti grazie a tutti